L'1 settembre riparte l'Aurobic Cup Junior dopo la pausa estiva e riparte con una novità, la prima gara sul nuovo tracciato permanente di Ghisalba. Una bella sorpresa, ce la facciamo presentare da Patron Pedroni, dalla partiva ghisalbese a stazione ciclismo. Sì, infatti come ci siamo trovati inizio l'anno che c'era anche la neve, era una piccola bozza del circuito, abbiamo lavorato tutti questi mesi sodo grazie ai genitori, alla spinta del comune, con il parco del serio che ha colato tutti noi, abbiamo creato questo circuito che sono tre tipi di circuito per i bambini dal G1-G2, G3-G4 e G5-G6. Abbiamo creato discese, abbiamo nel boschetto utilizzato tutto quello che era la discesa di salite naturali, abbiamo ripulito e sistemato tutto. Stiamo mettendo anche la logistica, quello ci vorrà un attimino, ancora un attimino, però ci stiamo arrivando anche a quello. Diciamo che il 90% del circuito ormai è completato, è fatto e diventerà il by-park di Salba, che anche il parco è serio, come avevo già anticipato a febbraio, quando ci siamo trovati l'ultima volta, era disposto a fare. Hanno visto il lavoro che abbiamo fatto e ci hanno confermato che diventerà by-park di Salba, diventerà proprio una zona dove si farà dallo sport. Con una casa così sappiamo che stanno anche crescendo le adesioni alla squadra, siete in crescita? Sì, siamo in crescita, all'inizio dell'anno eravamo in 24 bambini, adesso siamo a 38 bambini. Ce ne sono altri, 3 G0 che hanno 5 anni, che purtroppo non possono ancora fare le gare della rove-park, però sono qua che si impiengono la loro biciclettina a pedalare con tutti gli altri. Si è formato un bel gruppo tra i ragazzi, che sono tutti tra di loro, a prescindere dall'età e da tutto, tutti che si aiutano e sta andando molto bene, sono contento anche per i ragazzi che sono in crescita. Buongiorno gli atleti è Stefano Zini, raccontacelo questo percorso, ne è venuto fuori un bel tracciato per tutte le età? Sì, sì, proprio per tutte le età, è un bel tracciato, specialmente quello dei G5 e G6, che siamo riusciti a trovare dei passaggi molto tecnici in questo boschetto che abbiamo trovato vicino al serio. Poi io che ho partecipato alle top class ho dato un po' degli indirizzi per come fare delle discese, delle salite un po' più tecniche del solito, che non si trovano in tutti i circuiti, che i ragazzini trovano nell'Eurobio Cup. Ci sono tre varianti, per quali più piccoli, G1 e G2, abbiamo creato un percorso che misura circa 700 metri, è quasi tutto un rilancio curva contro curva, che abbiamo trovato in un prato qua vicino al boschetto. Per i G3 e G4 invece abbiamo creato un percorso un po' più lungo, dove dovranno fare un giro di lancio, che percorreranno tutto il perimetro del circuito e poi si metteranno anche loro in un pezzo di boschetto per completare tutto il percorso e misurano circa 1.100-1.500 metri. Maestro dei G1 e G2 o anche degli G0, sappiamo che c'è qualcuno anche di G0, Pierangelo Zini, abbiamo visto anche un piccolo tracciato permanente per far fare l'asilo nido dalle mountain bike. Sì, esatto, in effetti noi essendo come scuola di mountain bike abbiamo la richiesta proprio dalla federazione di avere uno spazio proprio adibito ai bambini piccoli, dove deve esserci un percorso permanente, dove noi abbiamo usato delle bascole, dei wups, anche delle semplici tavole oppure dei passaggi per imparare a fare gli slalom. Proprio per far imparare i ragazzini abbiamo dei bambini che oltre che essere G0 sono anche meno, perché abbiamo i bambini che sono alla scuola materna, dei mezzani, poi abbiamo dei grandi e poi naturalmente G1 e G2 che completano. Siamo contenti perché sono veramente bravi e obbedienti a imparare questi esercizi. Sindaco di Ghisalba, Samuele Vegini, ci siamo, ormai l'1 settembre ci sarà l'inaugurazione agonistica di questo percorso permanente che vi ha visti anche voi dal comune in prima linea. Sì, questo circuito nasce dalla collaborazione tra l'amministrazione comunale e la sezione ciclismo della Polisportiva Comunale di Ghisalbese. Questo è un gruppo nuovo, in continuo aumento, perché bisogna dire che ci sono tanti ragazzi sia di Ghisalba ma anche dei paesi vicini. Quindi noi siamo attenti a questo tipo di iniziative e diamo una mano a questi gruppi. Quindi questo circuito nasce dalla necessità di dare a questo gruppo uno spazio adeguato per l'attività che fanno e meglio di questa zona che all'interno del parco del fiume Serio non avevamo. Questo lavoro ha dato frutto a due obiettivi che ci siamo prefissi. Il primo è quello di dare uno spazio per questo gruppo. Il secondo è quello di riqualificare una zona del nostro territorio che era lasciata un po' a se stessa. Di fatti grazie al lavoro di questo gruppo, della sezione ciclismo, dei volontari, dei genitori. Oggi abbiamo dato a questo gruppo ma anche a tutta la cittadinanza di Ghisalba una zona vivibile che chiunque può venire qui in questo circuito. Quindi un grazie a tutti i volontari, i genitori, al presidente, a tutti i genitori che sono stati qua e a tutti i ragazzi che vengono qua a fare i lamenti e fare le gare. Grazie. Grazie.